Chi è il nostro vero padrone, il nostro vero Dio? A lui, a lui, che ci sveglia con i nostri stimoli, che ci dice questo, che ci dice quello, che ci fa arrivare una mail, che ci fa arrivare un messaggio. Per cominciare la giornata e poi finirla c'è il cellulare, ma al femminile che significa? Quali sono i dati che avete portato a Pescara? Secondo i dati di Union Camere e nella visione nazionale, il 22% delle aziende costituite negli ultimi 5 anni vedono quelle con a guida una donna triplicate rispetto a quelle degli uomini. Sono 51.000 unità approssimativamente le aziende costituite e più di 38.000 sono al femminile. L'Abruzzo è una regione virtuosa per quanto riguarda l'imprenditoria femminile. L'Abruzzo è al quarto posto in Italia come numero di imprese in rosa e negli ultimi due anni ha contribuito con un 25% all'incremento nazionale delle nuove attività aperte. Lei è sposata? Assolutamente sì. Come va con suo marito? Dice che lei ha ragione o cosa succede? Vuole dire la gestione della famiglia? Direi che democraticamente siamo riusciti ad ottenere un equilibrio perfetto. Evidenzio anche che ho altri due figli che sono comunque due uomini, quindi diciamo che il mio livello di allenamento è discreto. Bisogna vedere il livello di allenamento di suo marito. Reggiamo bene da 32 anni, secondo me è un risultato importante, siamo riusciti ad ottenere un equilibrio paritario. Che è buono, è bello e è distruttivo. No, è formativo. La formazione è importante, è quello che stiamo facendo anche qui a Pescara. Stiamo cercando di conferire alle nostre imprenditrici nuovi strumenti nella cassetta degli attrezzi. Quindi la donna deve ancora superare gli ostacoli del quotidiano, quindi quello di gestire bambini piccoli, la famiglia, conciliare il tempo, il lavoro. Lei accennava che le donne hanno a che fare con dei bambini piccoli, anche dei mariti un po' piccoli. Anche dei mariti, però i figli per noi sono sicuramente una priorità. La sua personale cassetta degli attrezzi, chi gliel'ha preparata? L'ho fatto sapientemente io dall'inizio, quando ho capito che se non mi organizzavo avrei avuto molte più difficoltà. Corri di qua, corri di là, c'è bisogno ogni tanto di rilassarsi, per esempio così. Per estranearti da un momento di vita, lavorativo o qualunque altra cosa. Spesso, ad esempio, a me capita che mi tornino utili anche, è una cosa che mi prendono praticamente in giro tutti, però ad esempio io guardo le serie in coreano, che non lo so il coreano, premesso questo. Secondo me, sono rilassantissime queste cose. Sì. Sì.